Cari amici del canale, benvenuti! Oggi abbiamo un contenuto straordinario che potrebbe fare la differenza nella vostra vita. Prima di immergerci, vi chiedo un piccolo favore, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questo spazio e continuare a condividere contenuti di valore. Ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore di questo video che sicuramente lascerà un'impronta positiva nella vostra giornata. Grazie per essere qui e per il vostro sostegno costante. Oggi desidero rivolgere la mia attenzione a un tema che tocca profondamente la vita di ognuno di noi, lo stress e l'ansia. La frenesia quotidiana, le pressioni sociali, le aspettative personali e professionali possono creare un fardello che spesso sembra insormontabile. Ma è importante ricordare che la forza per affrontare queste sfide risiede dentro di noi. Lo stress e l'ansia sono come tempeste che si abbattono sulla nostra vita, ma possiamo imparare a navigare in esse anziché esserne travolti. In questo viaggio, è fondamentale comprendere che non siamo soli. Ognuno di noi porta con sé il potenziale per superare le avversità e emergere più forte di prima. Iniziamo col comprendere che lo stress e l'ansia sono reazioni naturali del nostro corpo e della nostra mente. Sono campanelli d'allarme che ci segnalano la necessità di rallentare, riflettere e prendersi cura di noi stessi. Come marinai in balia delle onde, dobbiamo imparare a regolare le vele della nostra mente, a trovare un equilibrio tra le tempeste che ci circondano e la calma che risiede dentro di noi. La consapevolezza è la prima chiave per aprire la porta verso una vita più serena. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre emozioni, riconoscere quando lo stress si fa sentire e comprendere le radici dell'ansia. È come esplorare un territorio inesplorato, solo attraverso la consapevolezza possiamo mappare le nostre paure e i nostri pensieri negativi. Ma la consapevolezza da sola non è sufficiente. Dobbiamo armare noi stessi con gli strumenti necessari per affrontare queste sfide. Uno di questi strumenti è la pratica della mindfulness. La mindfulness ci insegna a vivere nel momento presente, a concentrarci sul qui e ora anziché farsi travolgere dai pensieri ansiosi sul futuro o rimpianti del passato. È un antidoto potente contro lo stress, poiché ci permette di riscoprire la bellezza della vita in ogni singolo istante. La riflessione è un altro strumento chiave nel nostro arsenale contro lo stress e l'ansia. Riflettere sulle nostre priorità, sui nostri valori e sulle nostre aspirazioni ci aiuta a dare un senso alla nostra esistenza. Troppo spesso, ci lasciamo travolgere dalle aspettative degli altri o dalle pressioni della società, dimenticando chi siamo davvero. La riflessione ci consente di riappropriarci della nostra autenticità, di vivere in sintonia con il nostro io più profondo. Non dobbiamo dimenticare l'importanza delle relazioni umane. Troppo spesso, ci isoliamo quando affrontiamo lo stress, ma è in quei momenti di connessione con gli altri che troviamo forza e sostegno. Condividere le nostre sfide e i nostri successi con coloro che ci circondano crea un legame che può diventare il baluardo contro le tempeste della vita. Infine, ricordiamo che la resilienza è un'arte che si perfeziona con la pratica. Ogni sfida superata, ogni ostacolo abbattuto, ci rende più forti. Non c'è crescita senza sfida, non c'è successo senza fallimenti. Accogliamo le difficoltà come opportunità di crescita, come pietre miliari che ci conducono lungo il cammino verso la nostra migliore versione. In conclusione, onorevoli presenti, lo stress e l'ansia possono essere affrontati e superati. Abbiamo il potere di trasformare le tempeste della vita in occasioni di crescita e realizzazione personale. Siate consapevoli, praticate la mindfulness, riflettete sul vostro percorso, coltivate relazioni significative e abbracciate la vostra resilienza interiore. La chiave per una vita appagante e priva di ansia è nelle vostre mani. Che questo discorso possa essere il vento che spinge le vostre vele verso la serenità e la realizzazione. Ora che abbiamo esplorato le vie per affrontare lo stress e l'ansia, vorrei concludere con un racconto zen che incarna la saggezza e l'ispirazione che abbiamo discusso. In una remota regione montuosa del Giappone, c'era un vecchio monaco buddista noto per la sua saggezza e la sua serenità. Un giorno, un giovane viandante si avvicinò a lui e chiese, Maestro, come posso liberarmi dal peso dello stress e dell'ansia che opprime la mia vita? Il vecchio monaco sorrise e lo invitò a seguirlo lungo un sentiero che portava a una cascata nascosta tra gli alberi. Arrivati lì, il vecchio indicò l'acqua che scorreva incessante e disse, Osserva l'acqua. È fluida, ma nello stesso tempo potente. La sua forza non deriva dalla resistenza, ma dalla sua capacità di adattarsi al percorso che la vita le impone. Il giovane viandante guardò l'acqua con occhi contemplativi. Il vecchio continuò, Così come l'acqua scorre liberamente tra gli ostacoli, così tu puoi affrontare le sfide della vita. Non cercare di resistere al flusso, ma impara a fluire con esso. La tua forza risiederà nella tua capacità di adattarti, di accettare ciò che non puoi cambiare e di concentrarti su ciò che puoi controllare. Il giovane viandante, colpito dalla semplicità e dalla profondità del messaggio, chiese, Maestro, come posso imparare a fluire con la vita? Il vecchio monaco sorrise di nuovo e disse, Inizia con la consapevolezza. Osserva i tuoi pensieri come osservi il flusso dell'acqua. Pratica la mindfulness per comprendere il momento presente. Rifletti sulle tue priorità e accogli la saggezza che nasce dalla tua autenticità. Coltiva relazioni sincere e abbraccia la tua resilienza interiore. Il giovane viandante ringraziò il monaco e, nel corso degli anni, seguì i suoi insegnamenti. Con il tempo, imparò a fluire con la vita, ad affrontare le sfide con grazia e a trovare serenità anche nelle tempeste. Il suo cuore divenne leggero, e il peso dello stress e dell'ansia svanì come la nebbia al sorgere del sole. Onorevoli presenti, possiamo tutti imparare dalla saggezza dell'acqua e del giovane viandante. La vita è un flusso in continuo cambiamento, e la nostra forza risiede nella capacità di adattarci. Possa questo racconto Zen ispirarvi a fluire con grazia attraverso le sfide della vita e a trovare la serenità nel vostro viaggio. Oggi abbiamo esplorato insieme le vie per affrontare lo stress e l'ansia, aprendo la porta a una vita più serena e appagante. Vorrei ora condividere alcune riflessioni che spero possano ispirarvi e guidarvi nella vostra personale ricerca di equilibrio e benessere. Riflessioni 1. Consapevolezza è il primo passo. La consapevolezza è la chiave per comprendere il nostro stato emotivo e mentale. Osservare i nostri pensieri senza giudizio ci consente di identificare le fonti di stress e ansia, aprendo la strada alla trasformazione. 2. Mindfulness come bussola La mindfulness è come una bussola che ci orienta nel mare agitato della vita. Praticare la consapevolezza nel momento presente ci permette di accettare la realtà senza essere sopraffatti dalle emozioni negative. 3. Riflessione come guida interiore La riflessione ci aiuta a definire le nostre priorità e a trovare un significato più profondo nella vita. Chiediamoci regolarmente, cosa è veramente importante per me, e modifichiamo il nostro percorso di conseguenza. 4. Relazioni sincere e supporto La forza delle relazioni umane è un tesoro inestimabile. Coltivare connessioni sincere ci fornisce il sostegno necessario per superare le sfide. Non esitate a condividere i vostri pensieri e sentimenti con gli altri. 5. Resilienza come chiave del successo Ogni sfida è un'opportunità di crescita. La resilienza è la capacità di apprendere dalle difficoltà, di rialzarci dopo una caduta e di emergere più forti. Abbracciate le vostre cicatrici come segni di una forza interiore in costante evoluzione. Consigli pratici 1. Pratica quotidiana di mindfulness Dedicate alcuni minuti ogni giorno alla pratica della mindfulness. Concentratevi sul respiro, osservate i pensieri che attraversano la vostra mente senza aggrapparvi ad essi. 2. Rituali di riflessione settimanali Dedicate del tempo ogni settimana per riflettere sulle vostre esperienze, le vostre conquiste e le vostre sfide. Questo vi aiuterà a mantenere un contatto costante con il vostro percorso personale. 3. Coltivate relazioni significative Nutrite le vostre relazioni, siano esse familiari, amicali o professionali. La condivisione delle esperienze con persone di fiducia può alleviare il peso dell'ansia. 4. Trova il tuo spazio di pace Creare un luogo o un momento in cui potete trovare pace e tranquillità può essere un rifugio durante momenti di stress. Può essere un angolo della vostra casa, una passeggiata nel parco o una breve pausa di meditazione. 5. Abbraccia la sfida Affronta le sfide con un atteggiamento aperto e positivo. Ogni difficoltà può essere un'opportunità di crescita e apprendimento. Onorevoli presenti, vi invito a integrare queste riflessioni e consigli pratici nella vostra vita quotidiana. La via per una vita più serena e appagante inizia con piccoli passi e continua con una pratica costante. Che la consapevolezza, la mindfulness e la riflessione siano le vostre guide mentre percorrete questo straordinario cammino chiamato vita. E con questo, cari amici, giungiamo alla fine di questo viaggio insieme. Spero che le riflessioni e i consigli condivisi vi siano stati di ispirazione e aiuto. Prima di concludere, vorrei chiedervi un grande favore, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like se avete apprezzato il contenuto, condividete questo video con chi pensate possa trarne beneficio e lasciate un commento con le vostre opinioni e le vostre esperienze. Il vostro supporto è il motore che alimenta questo spazio, e ogni azione che compite qui ci aiuta a crescere e a raggiungere sempre più persone. Siamo una comunità che si sostiene reciprocamente, e con il vostro contributo possiamo continuare a creare contenuti che fanno la differenza. Grazie di cuore per essere parte di questa avventura. Vi invito a rimanere connessi, a iscrivervi se non lo avete già fatto, a lasciare un like, condividere e commentare. Insieme possiamo fare la differenza. A presto e grazie ancora per il vostro prezioso sostegno.